musica 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 così ritengo sempre sottottico per qualcuno scrive ok? bene bene non meno mi ha insegnato perché quando mi faccio prendere un taglio giu non tanto perdo la chat musica 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 allora adesso vogliamo vedere cosa ci manca di warfarin ci veramente lo volevamo continuare a fare a una missione dell'altra volta a prendere il tizio eccetera eccetera vediamo che cosa ci da oggi il gioco grazie grazie eh certo piangelo molto la scelta eh proprio assai la scelta per il nuovo messaggio non detti nella posta vediamo mercato posta 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 per te c'è posta per te ehm posta 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 per te c'è posta per te c'è posta per te riscatta nel tuo bros che cosa però non sto proprio curioso ragazzi vabbè su Prime Gaming ah solo Prime Gaming eh si ovviamente poi scena quella cosa di Prime ehm niente ma mi apro comunque aspetta non aspetta a te azo se il volumino sennò qua azo che cosa è che ci stiamo facendo nulla possibile possibile non ci stiamo facendo niente 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 ma andiamo a fare sconsina a quello ma andiamo a fare sconsina a e un po' più altro magari la musica ok dobbiamo ancora completare quella famosa missione è un punto questo di cui dobbiamo cercare il tizio, lo dobbiamo interpolare, lo dobbiamo scansionare con stile ok 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 ci pensavano no aspetta ok ok non si preoccupi ci pensavano dai e l'altro stava di qua se non mi sbaglio stavano a prenderlo la mi ha detto porca miseria dentro devo sentire mi ha detto porca lei è la non si può non si può no allora Ok, mettiamo il codice qua dentro e dobbiamo superare alla porta, salve, scusi eh, eh, sì, da quella parte, eh, quanta gente è testato da qua, eh, è una riunione, date, in buca anche io, se, 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 certamente, la prossima è un'altra, non è, ok, ok, ah ok, ma non ho attivato l'allarme e si, gli stimonelli, non ho attivato l'allarme, oh, è firma no, scusate, lo svegliato strano vabbè, quello che stava a fare i partitori vabbè ma non ho un'altra non ho un'altra però prima facciamo gli obiettivi, poi risparmio di tirano tutti come ti permetti, non è un problema no, cuckoo Nooo Vai Bene Questo si può togliere? Grazie Comanda se la scia Ma la scia che fine ha fatto? C'è un bubino Vabbè Questa parte Sicuramente Lui sai dove sta il suo compagno No niente Sto venendo un po' lo scanalizza Non so com'è No, dove sto andando? Facciamo figuracce per favore Forza Ho uscito a poro Ti ho guardato un attimo la vita che tipo Stavo un po' aspetta Vabbè Vabbè Non ti preoccupare Non doveva prendere la cospola E' di distruggere Doveva trovare il tizio Vabbè non ti farei da questa parte Questa è sempre qui Non mi piace Stava sempre qui Questo diciamo livello qui Questa è iniziale Questa è iniziale Vabbè Questa è iniziale Questa è iniziale ma Questa è iniziale Questa è iniziale Allora, da sopra sono due, andiamo a prenderli magari, non morendo, no, lascio solo. Torniamo un attimo indietro, che dite? Magari oggi non sposta, eh, indietro, una cosa buona. Non c'è l'acqua, non ci vedo la zona, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua. e va ti vedo una ceppa che è piossata con l'altro che cosa è successo? ma sta a seppi ora qua ciao questo è il vostro stavano l'acce dobbiamo montare quel giardino no dobbiamo fare quella missione non posso far vedere boh dobbiamo ritornare indietro senza andare dove stanno dove sta l'obiettivo e vedere un po' di là voglio dire un po' di di riparo la missione vediamo ma che vuoi fare quella è uscito la pompa ma lì non si è accorto di nulla è bello beato lì vediamo è già è già è già è già lo puoi prenderlo però vediamo ma andiamo a vedere sta sperando che sta un po' più avanti anche se mi doveva dare quello che finisce da la dobbiamo la la non la 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 non vuole che non sono perso lo vuole pigliare non vuole non vuole non vuole mamma mia non vuole no cacchio vabbè non c'è seppi qua tu le faccio non c'è seppi qua non c'è c'è qualcosa che non costo così eh guarda un po' di fretta Beh, lo rifacciamo adesso, perché è l'improvviso in mezzo dopo la scia. Dai, facciamo insieme a scelta di livello o facciamo solito. No, a proposito. Ok, dobbiamo seguire il flow show, il flow show dell'energia, sicuramente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. la stanza mi senti da giù oiii che portava lui il 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 va o 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 ok 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 ho capito capito ho il slider sulla ponte andiamo indagare dai ok ragazzi Ok, ora prendiamo questo posto I can't do this without you. Here we go. I can't do this anymore. Okay, I can't do this anymore. I'm going to play them. But they're only playing like about the game, I'm going to play the game. Aspetta che qua mi sto vedendo No cosa interessa lì Ok Ah già No no non va bene Aspetta aspetta Ora prendiamoci un atto Quali Ma la cosa è che non mi stiu Non ho capisco Ci sono La scuola Non è che non mi sono Ma non è un bambino Ma non ho capisco Adesso è un bambino D'acquilla Ma non è un bambino Di potente Da C'è Perchè di questa Eeeh, che è successo? No Eeeh 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 grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ok. Benissimo. Ok. Ok basta così farò. La prossima... Ok. Ok. Ok.